Notizia da Sky, scelta definitiva, per il calciatore non ci sono alternative. In attesa della separazione con Cristiano Giuntoli, Aurelio De Laurentiis, con i suoi due uomini, il mercato sta programmando la prossima stagione. Nei pensieri della dirigenza, anche il futuro di Irving Lozano, l'ala messicana, ha il contratto in scadenza nel 2024. Questa sessione per lui sarà fondamentale, secondo quanto riportato. Infatti, da Sky Sport, il Napoli ha deciso Lozano a due strade, rinnovare adesso o partire. Il club, infatti, non vorrebbe perdere il calciatore a parametro zero. Nella lista dei possibili sostituti, in cima, c'è Riccardo Orsolini. Per adesso, però, non c'è alcuna trattativa, come confermato anche da Sartori direttamente a Sport Italia. Solo una suggestione per adesso che potrebbe poi trasformarsi in una trattativa. Lozano è davanti a un bivio, deve scegliere il prolungamento, però ad oggi sembra improbabile. Grandi movimenti sulla fascia destra del Napoli.